Stiamo provando ad utilizzare molte più lenti per vedere cosa succede, quindi se è vero che la luce... Siamo a Castellaro Lagusello, questo è il laboratorio a chiappare le stelle e questi ragazzi che vedete hanno costruito un piccolo telescopio attraverso delle luci, alcune lenti, uno sfondo e uno specchio, quindi cercano di riprodurre le luci, che per noi sono delle piccole luci, dei led, su uno sfondo come fanno proprio i grandi astronomi nei telescopi professionali.